ciao ragazzi e bentornati a questo nuovo video dedicato ad after effects questa settimana vediamo un modo semplice per dare un'estrusione ai nostri tratti che si disegnano e rivelano un logo senza l'uso di plugin 3d ma prima di iniziare iscrivetevi al canale attivate la campanella e se vi va commentate detto questo iniziamo cari amici della community oggi vediamo come rivelare un logo attraverso l'animazione di semplici tratti a cui andremo a simulare una vera estrusione 3d ma senza l'uso di plugin esterni quindi ci portiamo su after effects e creiamo una nuova composizione full hd all'interno della quale andiamo a inserire il mitico simbolo degli autobot dei transformer che essendo di colore rosso lo vado a modificare inserendo l'effetto riempimento e impostando un colore bianco dopodiché con il tasto destro precomponiamo il livello che rinominiamo logo spostiamo gli attributi e diamo ok ora su questo contenitore applichiamo l'effetto vegas e dalla sua proprietà dei metodi diffusione lo portiamo su trasparente vi ricordo anche che all'interno del mio corso di after effects visibile qui sul canale è presente una lezione dedicata a questo effetto a questo punto portiamo i segmenti al massimo quindi 250 poi nuovamente impostiamo un bianco diamo una larghezza o spessore del tratto attorno ai 9 e questo è una scelta facoltativa in base al vostro gusto personale e portiamo al massimo tutte le proprietà sottostanti una volta fatto lo animiamo attraverso la proprietà di lunghezza quindi accendiamo il suo orologio selezioniamo il livello nella timeline e premiamo il tasto 1 per vedere il fotogramma chiave che prendiamo e lo spostiamo per il tempo vogliamo duri l'animazione diciamo 8 secondi poi torniamo con la linea temporale all'inizio e azzeriamo il valore della proprietà e se trasciniamo la linea temporale possiamo vedere i tratti che costituiscono il logo che si accendono in sequenza ma noi vogliamo una sorta di taglia tracciati con i tratti che si disegnano quindi portiamo la distribuzione segmenti da uniformi a raggruppati e otterremo ogni parte del logo che si disegna ora per creare l'estrusione trasformiamo il livello in 3d apriamo la posizione con il tasto p e con alt premuto facciamo un click sul suo orologio e andiamo ad applicare un'espressione che vi lascio in descrizione nella pratica fa sì che ogni livello creato si sposti sull'asse z di profondità di 3 pixel rispetto al precedente e il motivo sta nel fatto che l'estrusione che andremo a creare altro non è che la sovrapposizione di più livelli che grazie a questo automatismo andranno a simulare un vero effetto 3d quindi facciamo control d lo duplichiamo e su quello in basso gli aggiungiamo un effetto di riempimento perché ci servirà per dare un tono colorato e che andremo a gestire con uno slider quindi inseriamo un livello di regolazione che portiamo sopra sulla quale inseriamo l'effetto controllo colore ora dal livello alla base nella timeline andiamo sull'effetto riempimento facciamo alt più clic sulla proprietà del colore che ci aprirà l'editor in timeline selezioniamo il livello di regolazione e ora prendiamo il pick whip dell'effetto e lo colleghiamo al controllo colore dove impostiamo un grigio chiaro a questo punto sappiamo che per spostarci nello spazio 3d di after abbiamo bisogno di una videocamera che inseriamo con il tasto destro della timeline mettiamo quella a due nodi e ora tenendo premuto alt in combinazione con i tasti del mouse incliniamo un po la scena e selezioniamo il livello alla base e con il control d lo duplichiamo qualcosa come 25 volte o in base a quanto alto volete il tratto infatti questa operazione ci permette di visualizzare in tempo reale la sovrapposizione dei livelli che andranno a creare una sorta di profondità bene a questo punto non ci resta che personalizzare la scena e l'animazione dei tratti e quando abbiamo timeline così ricche sono abituato a cambiare layout per vedere tutto su un piano detto ciò aggiungiamo un tinta unita che rinominiamo bg che sta per background e che sarà il nostro fondale a cui gli diamo un colore bianco e che posizioniamo alla base ora ricordate che sul livello di regolazione abbiamo un controllo colore collegato tramite espressione bene da questo possiamo cambiare il colore di tutti i livelli tranne il primo in cima così da ottenere una tinta diversa che in ogni momento possiamo modificare dalla sua proprietà mentre se volessimo invece gestire l'aspetto singolo di uno livelli di quelli sottostanti dovremo sganciare l'espressione per esempio andiamo a creare una leggera ombra alla base per dare l'impressione che il nostro simbolo sia staccato da terra quindi ci portiamo sul penultimo livello e dalla finestra del controllo effetti facciamo alta più clic sulla proprietà del colore che andrà così a scollegare l'espressione facendo quindi un doppio clic sulla palette del colore possiamo impostarne uno noi a piacimento in questo caso stiamo su un grigio al 50 per cento che come ombra è più credibile in più andiamo ad aggiungere l'effetto si si radial fast blur e impostiamo un amount attorno ai 30 ora selezioniamo sia il riempimento che la sfocatura veloce e le copiamo con il control c ci spostiamo sull'ultimo livello dove cancelliamo quello di riempimento con l'espressione collegata e facciamo control v per incollarli ora su questo riempimento applichiamo un tono di grigio più scuro e ottenere così la nostra ombra bene non ci rimane che dare un tocco più cinematografico attraverso l'animazione della camera dove basterà avere giusto tre inquadrature diverse d'angolazione e prospettive differenti per fare in modo che solo alla fine ci renderemo conto che si tratta del simbolo dei transformer quindi ci portiamo due secondi per vedere il tratto già creato impostiamo una posizione della camera un po di taglio dove possiamo combinare anche la rotazione del livello e siccome ne abbiamo ben 25 facciamo in modo che animandone uno li animeremo tutti quindi li seleziono dal secondo all'ultimo e poi con uno dei pic whip li colleghiamo tutti al primo dove apriamo con il tasto r la sua rotazione ci portiamo a tempo zero e accendiamo l'orologio poi andiamo due secondi e ruotiamo di poco l'asse y con un valore negativo in più creiamo anche una sfocatura attorno alla scena quindi aggiungiamo un livello di regolazione che rinominiamo sfocatura sulla quale applichiamo l'effetto sfocatura con lente fotocamera e gli impostiamo un raggio attorno ai 15 ora l'andiamo a mascherare selezioniamo lo strumento ellisse teniamo premuto control e facciamo un doppio clic sul pulsante della forma per applicarla con le dimensioni dello schermo a questo punto dalla proprietà maschera la invertiamo o la sottraiamo in modo che la scena ripresa al centro sia perfettamente a fuoco e possiamo anche ridimensionare la nostra forma a piacimento dopodiché ci basterà giocare con la sfumatura ed espansione maschera per trovare l'aspetto che preferiamo ora questa è la prima inquadratura che dura due secondi per cui creiamo la seconda il metodo più semplice è pre comporre tutti i livelli che andiamo a rinominare scena 1 dalla finestra di progetto ora la selezioniamo e con il control d la duplichiamo che diventerà così la scena numero 2 quindi la prendiamo e la portiamo in timeline sopra la 1 e la trimmiamo fino a due secondi che coincide con la fine dell'animazione della scena 1 e entriamo nel suo interno con un doppio clic dove andiamo a creare una nuova inquadratura spostando la videocamera questa volta con un'inclinazione diversa disattiviamo anche la rotazione quindi clicchiamo sull'orologio e su questa invece ne creiamo una diversa sull'asse z quindi a due secondi accendiamo l'orologio e poi ci spostiamo a circa 4 secondi e la facciamo ruotare diciamo di un meno 15 gradi torniamo quindi sulla composizione principale e dalla finestra di progetto duplichiamo la scena 2 con il control d che diventerà la scena numero 3 la prendiamo e la inseriamo in timeline in cima trimmando anche lei fino a 4 secondi entriamo con un doppio clic nel suo contenuto e dalla telecamera ripristiniamo la sua posizione originale e disattiviamo anche l'animazione sulla rotazione riportando tutti i parametri a zero a questo punto non ci rimane che animare la videocamera quindi dalle sue proprietà di trasformazione accendiamo l'orologio del punto di interesse e posizione poi andiamo a 8 secondi premiamo alt e con il tasto destro del mouse facciamo una carrellata per allontanarlo e trovata la dimensione che più ci piace diamo anche un leggero riempimento interno a questa forma e lo facciamo entrando nella comp scena 3 duplichiamo il primo livello dove nel punto in cui i tratti si sono tutti completati portiamo la sua opacità premendo il tasto t a valore zero e accendiamo l'orologio poi andiamo un secondo dopo e imposto un valore al 50 per cento a questo punto basterà tornare sulla composizione principale inserire un testo d'accompagnamento dove potremo scrivere appunto transformer utilizzando esattamente il font transformer che potete scaricare gratuitamente dal sito da font.com e mandare in riproduzione e ottenere così una falsa estrusione di un tratto che disegna il nostro logo bene ragazzi se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale commentate e lasciate un like perché sono i migliori stimoli per un creator nel continuare a realizzare video sempre nuovi se invece volete seguire il mio corso completo di after effects potete abbonarvi al canale a meno di un caffè a settimana e visualizzare così tutte le lezioni del corso dalla numero 1 alla 250 dove toccheremo davvero tutti i punti indispensabili per imparare questo software in maniera approfondita con spiegazioni dettagliate e tutorial per ogni singolo effetto ma non è tutto perché troverete una guida per utilizzare il plugin di mocha a e integrato in after effects per gestire tracciamenti in modo professionale ancora una guida allo script di duik bassel 2 per imparare ad animare il movimento dei personaggi e ancora un mini corso essenziale per sfruttare la potenza di google earth studio in combinazione ad after effects oltre a tutto quello che pian piano si andrà ad aggiungere per terminare una volta abbonato nella sezione community troverete i file di progetto asset utilizzati nei tutorial e dove possibile anche plugin e script gratuiti per cui vi ringrazio del vostro supporto e noi ci vediamo al prossimo video ciao